Bisogna aspettare tre anni prima di tornare a riassaporare la bontà dei ricci di Mare Nostrani. In questi anni infatti a nulla sono valsi i periodi di fermo biologico, come si può osservare anche sul nostro fondale attraverso le esclusive immagini che ci sono state concesse dalla SD Poseidon Diving di Monopoli e che sono state raccolte durante le loro immersioni, il massiccio consumo di questi esemplari ha fatto sì che questa specie sia diventata a rischio di estinzione nei mari pugliesi, tant'è che il 28 marzo 2023 il Consiglio regionale della Puglia ha dovuto adottare misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare, approvando una proposta di legge allo scopo di favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa etica e scongiorando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi. Il 5 maggio così è entrata in vigore la legge regionale numero 6 del 18 aprile 2023, con cui è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi per un periodo di tre anni. La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti con certificazione e tracciabilità secondo legge dei mari territorialmente non appartenenti alla regione Puglia. Saranno i nostri pescatori e custodi del nostro mare ad aggiornarci sul ripopolamento di questa specie, sperando che gli amanti dei ricci di mare possano presto tornarne a gustare la polpa.